Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA. Oggi siamo su Anonymous Hacker Simulator. La traduzione in italiano, a dire la verità, mi fa un po' paura, però lo proviamo insieme. Il gioco esce ad inizio aprile, non so ancora dirvi il prezzo. Abbiamo due modalità di difficoltà, l'hacker novizio, ideale per coloro che sono nuovi al hacking o cercano un'esperienza meno impegnativa, ricevi più suggerimenti e indicazioni, ok, metti la prova a tua abilità e la tua esperienza con la sfida definitiva, scegli questo livello solo se sei un hacker esperto in cerca di una vera sfida. Vengono forniti minimi suggerimenti, no, proviamo questo, giusto perché non so se mi fa mettere dei comandi, insomma. La grafica è la grafica classica disagio che a noi piace tanto, almeno a me, ma senza esagerare, ricordatevi sempre. La sveglia che suona è un elemento ricorrente di tanti giochi di questo tipo. Per entrare nel nostro collettivo devi dimostrare la tua competenza attraverso vari incarichi e salire di grado. Questo è Cypher Mask. Ora considera questa tua sfida di riscaldamento. Pensi di avere quello che serve per hackerare e non ho capito cosa? Comunque, adesso, la cosa più irritante di tutto questo è la musica che veramente picchia troppo. Oh, accedi al tuo laptop e naviga fino a Underground Web. Sarebbe il Dark Web o il Deep Web, insomma, che dirsi voglia. Questa luce un po' così distopica. Allora, e accedi al laptop. Ok. Mi piacciono sempre molto queste cose, le simulazioni di PC. The Underground Web, un regno dove gli hacker convergono, comunicano e trovano lavori e redditizi. È la porta d'accesso ad opportunità nascoste. Underground Web. Una volta connesso scoprirai una moltitudine di compiti che metteranno alla prova le tue abilità e mostreranno il tuo talento nell'hacking. Questi incarichi ti faranno avanzare all'interno del nostro collettivo. No, si è battaglotto bene per il momento. Cosa devo fare? Una volta lì accetta il nuovo incarico che ti aspetta. Ci sono... Ok, questa. I concerti servono come tuo principale mezzo per guadagnare denaro. Concerti? Vabbè. Ci sono due tipi di concerti che puoi esplorare. Principali fanno avanzare la trama all'interno del collettivo. Secondarie? Concerti? Cavoli. Non so cosa sia stato tradotto qui comunque. Opportunità più ampie. Va bene. Quando selezioni un concerto ti verrà un elenco di... Ok. Alcuni passaggi possono includere un comando. E Aerodump. Alla fine indicando che devi utilizzare il terminale... Ok. Va bene. Quindi questo è un incarico. L'ho già accettato? Ah, ok. Qua praticamente possiamo vedere tutto il nostro stato di allerta. Cambio di identità. Possiamo acquisire una nuova identità. operazione di spoofing, di stare l'attenzione, proxy e così via. Allora, inizia scansionando le reti circostanti, Aerodump, che tra l'altro possiamo copiare. Mi piace tantissimo sta cosa come quell'altro service IT. Invia frame da out mirativa... Pratico possiamo metterlo qui. Possiamo abbassarlo. Scansionare le reti terminal. Il nome e il comando. Flag. Le istruzioni aggiuntive. Valori. Ok. Tanto abbiamo gli aiuti, quindi... Quindi incollo. Aerodump. Ah, me lo fa completare così. Aerodump. Ok. Abbiamo una... Super Wi-Fi. Ok. Quindi, poi cosa diceva? Stabilisce una connessione Aerodump. Aerodump. Mi farà mettere, però, Aero Run. E poi mettiamo... No. Aero Run. Super Wi-Fi. No. CH1. CH1. Ok. Ah, CH1. Ok. Channel 1. Ok. Aerodump. Aerodump. Aero Run. Trattino CH1. Ah, SPAZIO 1. Non CH1 attaccato. Ok. Parametri errati? Sì. Buh. Scusate. E c'è nell'1. Vabbè, intanto vediamo se mi dice qualcosa qua. Aero Run. In via frame. Aero Play. Ah, Super Wi-Fi è il nostro. Ok. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere... Fatemi fare Aero Dump. Così ritroviamo questa. Aero Run. CH1. Trattino. BSSID. E poi 4E. 2.5A. 2.2E. 2.D9. 2.40. 2.0E. Tecnicamente dovrebbe essere giusto. Connected to the network. Ok, ci abbiamo messo un po' magari poi esiste un modo di farlo autocompletare. Ok, abbiamo fatto l'accesso. E poi in via frame. Aero Play. Allora, Aero Play. Verso Super Wi-Fi. Ok. Quindi Aero Play. Trattino. CH. Qua non mi spiega una fava. Aero Play. Super Wi-Fi. No. Allora. Aero Play. De-out. Ah, ok. Aero Play. De-out. Per de-autorizzare, credo sia. E poi Super Wi-Fi. No. Io non ci capisco niente di tutto questo. Cosa sta a fare? Ah, ma l'obiettivo mi è messo qua. Aero Play. Ok. Ma scusami. Ah, Wi-Fi Super Wi-Fi. Ok. Quindi rifacciamo. Aero Play. Sì. Aero Play. De-out. E poi fatemi fare una roba qua. Fatemi ricopiare questo. Perché siamo connessi adesso. Quindi, de-out. Incolla. Ok. Sta facendo. Ok. No, ci voleva un attimino più di... Di essere un po' più smart. Unshake Captured. Io non le faccio queste cose perché non le conosco. Tenta di craccare il Wi-Fi mirato utilizzando le Word List. Aero Crack. Non ho idea. Però facciamo punto cap. Ok. Sì. Vabbè. È intuitivo. Comunque basta seguire l'esempio. Sta testando le key. E vediamo. Ok. Per facere il prossimo obiettivo hai bisogno di acquisire il software aggiuntivo. Navigare nel The Underground Web e via Akify per acquistare... Ok. Quindi acquistiamo Akify. Nmap e Metal... Metasploit. Da Underground Web. Ok. Akify. Ok. Via Akify. No. Siamo nell'Underground Web. Dov'è il negozio però? Portafoglio. In Bitcoin. No. Valuta virtuale. Akify. Ah ok. Qua. E ne mappa. Stupendo di esplorazione dell'area e te controllo la sicurezza. Scansione dell'area e te per scoprire host servizio e vulnerabilità. Che è quello che vi fanno ogni tanto quando l'antivirus vi dà che vi scansionano l'IP. E poi questi sono i vari comandi che voi avviate dal terminale. Ok. Meta... Meta... Meta poi... Metasploit. Ok. Un framework di penetration testing che viene utilizzato per testare la sicurezza dei sistemi a rete acquista. Vendo tutto quello che ho. E procedi a completare il tuo primo lavoro secondario. Ok. Quindi si torna indietro. Lavori secondari. Ok. Questo. Mentre progredisci nel gioco incontrerai missioni che presentano scelte opzionali o multiple che influenzeranno il tuo allineamento morale. Le tue decisioni daranno forma alla bussola morale del tuo personaggio. Questo influenzerà la conclusione del gioco determinando se diventi un hacker grey, white o black hat. Ok. Va bene. Ma qua c'è proprio il simbolo più o meno di quello che è Anonymous. Lascia... Allora, in truffo allati in una festa di DJ locali che ha risolvato al pubblico, sostituisce tutte le canzoni con il rumore di animali lasciando i DJ sconcertati. Quindi non succede solo all'interno dell'appartamento ma si va in giro. Lascia appartamento ed ed egiti verso il downtown. Questo è molto bello, ci piace molto. Quindi, come si fa a uscire dal pitchfue? E... Ok, andiamo. Beh, è bellino però comunque perché adesso io non credo, bisogna anche mangiare. Però, usciamo. Abbiamo... Andiamo in centro. Non puoi salvarsi se sei fuori dall'appartamento. Ok. Siamo sul tetto qua. E andiamo qui si vede, niente si vede, niente si vede. Accedi al megafono. Usa il megafono. Questo è l'annuncio pubblico. La festa su questo tetto... Ah, ci troviamo già qui, deve finire. Chi fa il poliziotto sul tetto ora? Sei sicuro di essere la festa giusta, nonno? Va bene. Gli rovineremo la festa con questo. Sì, è un po' così approntato a quello che serve. Accede al computer. L'opzionale trovo un territorio di alimentazione nelle vicinanze, inietro di malware nel circuito di controllo R, carica il malware. Trovo un interruttore di alimentazione nelle vicinanze, scusate ma... Non si vede una fava qua, però... Non si vede niente, niente di niente. Scusate ma non c'è un... Controlli... No, non c'è niente. Niente, rinunceremo a quello. Anche perché... Aspetta, aspetta... No. Niente. Niente, facciamo quello che dici di fare, va. Allora... Trovo un interruttore... Va bene, esegui una scansione, nmap, quindi... Io non so se ho il programma, ma non credo, perché quello che abbiamo comprato è un eseguibile che poi facciamo andare da terminale. Ah no, ecco qua, nmap. Eh, è fatto attraverso il terminale. Quindi, vediamo un po' la formatazione di questo comando. Nmap. Eh, nmap. Su 45.30.76.43. Così scansiamo le vulnerabilità. Ok, questo sistema è molto probabilmente vulnerabile a FTP Bounce Attack. Ok. Quindi... Quindi dice di fare use... Use... Usiamo... FTP Bounce Attack 1.0. Ok, lo sia questo. Si debba fare così, credo. No. Connected server... Use... 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 Ah, ok. Ok. Tattino... X... Il nome... Tattino... E l'IP... E l'IP... E l'IP... Che non ho... Ah no, l'IP è quello lì. Sì, ok. Quindi... Vediamo la formatazione. Tattino IP. Via. No, non va. Use... X... Allora, trattino... X... Il name here... Ma non capisco, non... Cioè, sembra anche bello carino, eh. Allora... Sistema vulnerabile... A questo. Gli Xplora possono essere acquistati da Underground Web... A chi fai Xplora. Ah, ok. Ok, perché non ce l'ho, giustamente. Allora, Underground Web... A chi fai... Sistemi di Xplora. Ok. Vediamo un attimo. Bounce Attack 1.0. Questo. Acquisto. Perfetto. L'ho acquistato. Ah, tecnicamente avevo fatto giusto allora prima. Credo. Così. Trattino version. 1.0.0. Trattino IP. Spazio. Non sarà mica sto casino qua, perché se no non mi passa più. Vabbè. Copy. Vediamo se è giusta questa formatazione qua. No. Mi sto molto innervosendo, a dire la verità, perché... Non lo so. Immagino che non mi spieghi... Mi spieghi meno ancora... se facessi la versione più difficile, perché... Ah, ok. E' cliccabile anche il discorso delle notizie. Il blocco noto dove possiamo scrivere le cose. Il Salva. Il Twitter. Elan Musk. Slow Reading. Ronald Grump. Mark Zuckman. Jeff Mezos. Sono loro. Sono loro. Le facce sono quelle. Il Gomail. Possiamo loggare. Ma non abbiamo nulla per loggare. E può essere interessante. C'è anche il Marketplace dove si possono comprare nuovi PC. Le abitazioni. Le decorazioni. La musica. Winamp. Winamp. No. Win Warp. Ok. No. Vabbè adesso. Giusto per dare un'occhiata e smaltire il mio nervoso. Allora. Ah, ho scritto versione. Sono un pirla. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Dai, dai, dai. Temporeggiate. Versione. Version. Nessun IP trovato. Adesso lo ridi. Allora. Ah, devo fare così. Allora, 40. 40. Ah, 45. 45. Sono pirla. Io poi fondamentalmente. Non è che invio. Ok. Ce l'abbiamo fatto finalmente. Ok. Caratteri di credito account. Durante le avventure di hacking potresti imbatterti in personali dettagli di caratteri di crediti account collegati e salvati. Ok. Sfrutta queste preziosi informazioni il tuo vantaggio scambiando e confiscando i loro beni sulla famigerata piattaforma underground web Akify. Vendere i loro account potrebbe non sollevare alcune allarme ma gestire quelle carte di credito. Ok. Ok. Sì, sì, sì. Ebbene, giustamente. Per caricare malware sul dispositivo prima selezionare il file che esiste di ricaricare per far il carico. Ok. Siamo qua nel broadcast. Quindi. Connetti. Ok. Elimina il file chiamato DJ Broadcast. Ah, va bene. Che è la stessa musica che sta passando sotto. Elimina. Non va via la musica. Carica files. No. Ah, in uploads. Ok. Devo andare in uploads. E caricare DJ Animals. Carica. Eh, eh, DJ Animals. Eh. E quindi? Inizio caricamento. Ok. Lo metto qua. Ok. Macchinosa la cosa. Il file è stato caricato. Disconnectiti. Ed esci dal tuo laptop. Command disconnect. Ok. Ok. Secondo me questo è un gioco dove se imparate a padroneggiarlo vi darà delle ottime soddisfazioni perché potrete bullarvi con i vostri amici dove fate ta 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 e lui non ci capisce niente come io non ci capiamo niente adesso. Va bene. Ok. Ok, gli abbiamo mandato in bacca il... La partita è finita. Questo club è finito. Questa insegna da questi idioti e non disturbare il pubblico nel bel mezzo della notte. Bene. Torna all'appartamento. Torna all'appartamento. Perfetto. Si torna da qui. Perfetto. Molto bene. Carina. Carina come cosa. Accesso al laptop. No. Non si può interagire con altro. Si può dormire. Non posso dormire nel momento. Naviga. E... Adesso io non so se ho accesso al computer, cosa del genere. Credo sia... Credo sia un acquisto che si può fare per potenziare... Per diventare più efficienti. PC alta gamma. C'è telecomando tra screen intelligente. Le abitazioni probabilmente... Non so. Ci danno nuove tecnologie per la casa. Comunque qua ci sono gradi di caos. Frutta il potere dei strumenti avanzati. Ok. No, è carino. Assolutamente carino. Non è ovviamente una novità questo gioco perché ne esistono già di simili. Potrei poter utilizzare un 15 euro. 20 euro. È carino. Si digita. Non vi dà neanche troppi suggerimenti. Anche con la modalità lì. Perché vi dà il format in cui dovete scrivere. Ma non è immediatissimo da capire. Poi io ho fatto casino con gli IP. E ok. E non me ne sono accorto. Però dai. Non è assolutamente male come titolo. Fatemi sapere anche la vostra sotto nei commenti se vi è piaciuto. E alla prossima. Ciao ciao. Grazie.